buonasera benvenuti a otto e mezzo buonasera benvenuto matteo renzi presidente del consiglio segretario del partito democratico e buonasera bentornato marco travaglio direttore del fatto quotidiano allora presidente cominciamo subito dalle olimpiadi perché dopo il no di virginia raggi il capitolo olimpia di roma è chiuso o no credo proprio di sì dipenderà formalmente dalla decisione del consiglio comunale però immagino che se il sindaco di roma ha scelto di dire no evidentemente immagina di avere la sua maggioranza con lei quindi loro dovranno fare credo una delibera ufficiale per giustificare il marcia indietro se i consiglieri la voteranno nessuno di noi intende fare le olimpiadi contro l'amministrazione comunale che deve ospitarle ma non la sorpresa il no della raggi no per l'aveva detto in campagna elettorale io sto cercando l'avete visto anche durante i momenti di polemica di che ci sono stati per gli assessori dimessi per quelli dimissionabili di non fare mai polemica con il sindaco di roma perché lei ha vinto io faccio il tifo per l'italia io non sono contro gli altri quindi se roma va bene sono contento se roma va male mi dispiace da quello che mi ricordo ma può darsi che mi ricordi male in campagna elettorale virginia raggi si era impegnata a fare un referendum però credo che alla fine la titolarità è del consiglio comunale del sindaco per cui se lei decide di far questo non mi sorprende devo dire un po mi amareggia mi amareggia una cosa essenzialmente l'idea che si dà al paese che una grande opportunità come quella delle olimpiadi non si possa fare perché c'è il rischio che qualcuno rubi e questo atteggiamento è francamente impressionante cioè se noi come politici non proviamo a cambiare le cose ma ci limitiamo a a protestare non andremo mai da nessuna parte io quando sono arrivato a palazzo chigi all'expo mi hanno detto tutti non fare l'expo non fare l'expo in otto giorni abbiamo messo cantone abbiamo lavorato con la procura di milano abbiamo cacciato i ladri l'expo è stato un grande successo i grillini avrebbero avuto otto anni per sistemare roma e mi dispiace che abbiano deciso di no detto questo rispetto in bocca al lupo e si va avanti chi invece d'accordo con la sindaca raggi e marco travaglio e il tuo giornale il fatto no tu hai scritto d'accordo con noi perché noi ci siamo schierati contro le olimpiadi a roma già quando monti col quale non eravamo teneri rinunciò alle olimpiadi che la vera il vero vincitore di questa partita è virginia raggi no è la città di roma il vincitore della di questa partita perché non credo che la contrarietà alle olimpiadi sia il rischio dei ladri quello sarebbe stato un autogol clamoroso perché vorrebbe dire che i 5 stelle non sono in grado di tenerli lontani i ladri io credo che dipenda dai costi io mi ero studiato avevamo fatto una puntata di ricordi con malagò prima delle elezioni per la verità malagò era stato piuttosto convincente il dossier dell'università di oxford che spiega gli extra costi delle olimpiadi dice chiaramente che anche se non si ruba le olimpiadi sono una trambata pazzesca per chi se le aggiudica per analizza però le città per vincere le olimpiadi fino al 1999 questo insomma montreal 720 per cento di costi in più rispetto al bar al budget barcellona 266 per cento in più atlanta 151 per cento in più sydney 90 per cento in più atene 49 per cento in più è stato l'inizio del crollo definitivo della grecia londra 76 per cento in più rio vedremo ma si parla di più del 50 per cento in più è evidente che è una macchina che non può funzionare in attivo come del resto tutti i grandi eventi renzi parlava del dell'expo expo è costato più di 2 miliardi e ha incassato 600 milioni quindi sono tutte operazioni in perdite poi magari milano non è al dissesto roma 13 miliardi di debiti e quindi deve fare i conti col fatto di non poter aggiungere nemmeno un euro a quel debito io ho una visione direi ontologicamente diversa da quella di travaglio non è sull'unica cosa per cui credo che nessuno sia stupito di questo io faccio il tifo per l'italia non solo calcisticamente a differenza di travaglio che fa il tifo per la germania quando ci sono le partite tra la germania ogni tanto ogni tanto no no io faccio sempre il tifo per l'italia perché è giusto sbagliato il mio paese ma a differenza di travaglio io penso che questa fosse una grandissima opportunità per la città di roma sono stato da piccolo a barcellona prima del 92 e l'ho vista trasformata e ho visto londra come è cambiata in questi anni si può pensare tutto quello che si crede dei costi delle olimpiadi ma una buona amministrazione quelli che vogliono cambiare le cose non fanno l'elenco dei costi delle altre amministrazioni prendono e cambiano le cose questo è il punto vero proprio quello direi impressionante caro travaglio di questa decisione il punto impressionante secondo me è che come se i grillini avessero detto noi ammettiamo che non riusciremo a cambiare le cose perché se avessero voluto cambiare le cose avendo la nostra scusami non ti interrotto io se avessero voluto cambiare davvero le cose in cinque anni di governo e magari se vanno bene in dieci perché hanno due i mandati davanti a sé avrebbero potuto dire che gestivano il progetto in un altro modo fatto sta che ieri hanno festeggiato los angeles e parigi e ieri si sono lamentati direi che hanno pianto lacrime amare non quelli del coni e basta ma gli sportivi e magari quelle tante realtà che potevano avere un ritorno nelle loro città io ho visto parole molto belle da sindaci di colore diverso che però sono tristi perché le olimpiadi non si fanno detto questo rispetto per il sindaco perché noi se la raggi dice se no prendiamo atto e parliamo di comunque partita chiusa noi andiamo in pubblicità pretenenze allora tra poco in parlamento andrà in discussione la legge di stabilità il governo deve decidere dove tagliare dove risparmiare dove spendere quindi insomma è un momento importante per il nostro paese e anche per l'europa allora voi dovrete confermare gli 80 euro gli ecobonus dovrete finanziare il taglio dell'ires impedire che scattino le clausole dell'aumento dell'iva e delle accise sulla benzina tanto tutto questo è confermato tutto confermato tutto confermato se c'è una cosa buona che credo condividano tutti in questi anni è che non abbiamo mai fatto scattare le clausole di salvaguardia cioè quelle tasse che vengono messe se per caso non si non si verificano certe 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 situazioni particolari l'ultima volta che è scattata la clausola di salvaguardia dell'iva cioè che aumentata la tassazione è stato il primo ottobre del 2013 c'era un altro governo non c'era il nostro quindi le tasse continuano ad andare giù quindi certo è che io preferirei che l'economia andasse un po più forte però le tasse continuiamo ad andare a mandarle giù continuate a mandarle giù con quali soldi se le posso chiedere perché lei sta chiedendo all'europa anche in queste ore anche in questi giorni più flessibilità e anche perché deve spendere un sacco di mettere un sacco di soldi correttamente noi non stiamo se questo è molto importante perché noi non stiamo chiedendo più flessibilità all'europa o meglio noi stiamo chiedendo all'europa di cambiare propriamente politica economica la flessibilità è una concetto complicato rispetto al fiscal compact cioè i governi di prima hanno firmato un patto il fiscal compact che praticamente ci costringe a tagliare molto 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 in nome dell'austerity la flessibilità è un è un tentativo di ridurre questa discesa perentoria degli investimenti ma questa parte qui è secondaria io sto soltanto dicendo che con obama gli stati uniti in otto anni sono tornati a crescere e hanno il segno più l'europa in questi otto anni non ha funzionato detto questo va giù l'ires che è una tassa importante per le aziende va giù liri che è la tassa per le piccole imprese con vengono confermati tutti i nostri impegni gli 80 euro per le famiglie gli 80 euro per i carabinieri vigili del fuoco i poliziotti e compagnia bella vengono confermati l'impegno che tutti dicevano essere impossibile cioè che non si paga più la tassa sulla prima casa in più vediamo se riusciamo a dare e vengono confermati gli incentivi poi gli ecobonus vediamo se riusciamo a dare anche un aiuto in più a chi investe dare più denaro a chi metterà denaro per rimettere a posto che sono un albergo o per rimettere a posto fare un investimento tecnologico nell'azienda ecco un super ammortamento fiscale uno sconto fiscale a chi anziché tenersi soldi in tasca li mette per creare occupazione poi mi dice concretamente questo che cosa vuol dire però mi ha proposto di abbassare le tasse difficile cioè se lei c'è un albergo e rimette a posto l'albergo avrà uno sconto fiscale se lei in azienda si mette in toschi i soldi in tasca perché un proprietario dell'azienda non le abbassiamo le tasse se invece quei soldi li mette i macchinari in nuovi strumenti tecnologici in investimenti in ricerca vediamo uno sconto fiscale che si chiama super ammortamento c'è già da quest'anno lo aumenteremo il prossimo anno l'irpef però non riuscirete a diminuirla come ha detto il ministro pado ha detto due anni fa al paduan perché pado ha detto nel 2015 noi faremo gli 80 euro nel 2016 faremo limu nel 2017 faremo l'ires nel 2018 l'irpef per il momento è stato un percorso fantastico netto percorso fantastico travaglio beh a giudicare della crescita zero direi di no il problema è che la flessibilità in base agli accordi che anche l'italia ha sottoscritto è già stata esaurita tutta l'anno scorso come continuano a ricordarci i nostri partner europei flessibilità poi vuol dire fare altri debiti e non è che vuol dire trovare i soldi sotto le mattonelle che qualcuno poi prima o poi dovrà pagare purtroppo le risorse poche che c'erano non è che stiamo imputando al governo renzi di avere scialacquato grandi sostanze ma in questi due anni del suo governo una trentina di miliardi se ne sono andati in misure che erano state annunciate come capaci di rilanciare l'economia l'occupazione la crescita e che ci hanno portato a crescita zero ora pagare la crescita zero con 30 miliardi con misure che si sono rivelate inefficaci come gli incentivi del giocsac come gli 80 euro come l'abolizione della tassa sulla casa a tutti anche a quelli che potevano come me per esempio potevano permettersi di pagarla secondo me è stato un errore e il fatto che si continui a pensare distribuendo soldini a pioggia un po qua un po la il bonus ai diciottenni la cosa di qui la cosa di là in realtà si tratta semplicemente di dispersione di risorse che non dà quella scossa che immagino renzi si aspettasse perché quando renzi prende 13 miliardi e li mette negli incentivi del jobs act evidentemente si aspetta una scossa col botto come disse lui e poi purtroppo questa scossa non arriva tant'è che abbiamo scoperto che sono nati più nuovi posti di lavoro nel 2014 quando non c'era il jobs act che nel 2015 quando c'era sto parlando naturalmente di posti buoni di lavoro di lavoro stabile non sto parlando dei voucher che sono 83 milioni il record assoluto di tutti i tempi ovvio che 83 milioni di voucher significa che ci sono persone che hanno più voucher perché magari lavorano un'ora al giorno e figurano come se lavorassero tutto il giorno come i lavoratori stabili ecco questo è secondo me il problema nel quale lui si dibatte e adesso deve rientrare non solo delle clausole di salvaguardia che hanno messo i suoi predecessori ma anche da quelle che ha messo lui perché nella legge finanziaria del 2015 è stato il suo governo a introdurre clausole di salvaguardia da 12 8 miliardi per il 2016 da 19 per il 2017 da 22 per il 2018 quindi è chiaro che il problema c'è e siamo tutti qui curiosi di sapere dove verranno rintracciate queste risorse visto che l'europa continua a dirci la flessibilità l'avete avuta già l'anno scorso allora magari sbagliano in europa però non è che uno può continuare a dire cederanno parola non hanno ceduto molto sintetico temo che marco travaglio non sia informatissimo sui dati del jobs act l'istat che è quella che fa la certificazione dei dati dice che dal febbraio 2014 ad oggi si sono avuti 585 mila posti di lavoro in più nei 30 mesi del suo governo però io l'ascolto per cui se lei è così cortese da ascoltare anche me facciamo prima almeno evitiamo di interromperci perché una delle caratteristiche più belle delle regole democratiche di ascoltare anche gli altri certamente 585 mila posti di lavoro sono fatti per il 70 per cento da posti di lavoro a tempo indeterminato con il dal momento in cui entra in vigore il jobs act quindi la sua riflessione sui dati maggiori nel 14 che nel 15 è scorretta nel 15 è il 15 l'anno con il maggiore incremento dei posti di lavoro la sfido a duello verbale in una fact checking sul sito del fatto quotidiano quando vorrà vedremo i numeri dell'istat e vedrà che il 2015 è andato meglio del 2014 secondo punto la crescita non è quella che noi volevamo vero però mi scusi l'inps invece per l'anno corrente dice che sono crollati i contratti a tempo indeterminato mettiamoci d'accordo sui numeri aggiungo la domanda volevo chiedere se pensate di ripristinare gli incentivi fiscali per le imprese gli incentivi fiscali per l'impresa insomma erano sul lavoro e quindi le misure sul lavoro non cambiano l'inps dice una cosa diversa ora capisco che entriamo nelle tecnicalità che ha magari all'epasso al conto fiscale le imprese che assumono a tempo indeterminato tranquillamente nel 2016 ci sono stati meno contratti di lavoro siglati rispetto al 2015 cioè non c'è stato una diminuzione di posti di lavoro c'è stato un aumento dei posti di lavoro minore rispetto al 2015 quando c'è stato il boom quindi il 15 con il jobs act e con il 100 per cento di incentivi è andato meglio del 16 che ha il 40 per cento di incentivi devo dire quindi non ripristinare non avremmo avuto bisogno di questo era una era doping non era crescita chiama doping e io da rispetto per questo ma se lei avesse un figlio che deve trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato che firma un contratto a tempo indeterminato che sulla base di questo contratto prende un mutuo e magari si fa una famiglia forse non lo chiamerebbe doping è un incentivo sbattuto fuori qualche mese dopo quando finiscono incentivi non è sbattuto fuori travaglio non è che se uno viene assunto poi viene sbattuto fuori l'aiuto che viene dato nei primi tre anni è quello di incoraggiare le aziende a investire in una fase di difficoltà ma quel lavoro non è triennale a tempo indeterminato questo non l'avete ancora colto ma è la vera novità cioè io l'aiuto a tempo indeterminato a tutte le crescenti ma lei dovrebbe essere io capisco che lei sia colito l'articolo 18 io capisco che lei dovrebbe essere come dire contro l'italia calcisticamente ma almeno sul suo lavoro dell'italia dovrebbe essere allora ascolti siete voi che fate danni non io io scrivo come dire assolutamente rispettabile ma è la sua opinione vede quello che è diminuito in questi due anni sono le copie del fatto quotidiano non i posti di lavoro travaglio perché devo dare delle brutte notizie anche in merito a questo io sono un fedele lettore le manderò i dati una volta i dati di ads dicono il contrario ma mi dispiace perché sono sempre per la lettura e sono contro la deforestazione e l'abbattimento degli alberi il fatto quotidiano è pagato con i soldi dei nostri lettori pensiamo a quello che fate voi con i soldi dei cittadini il continuo intervento non mi impedirà di dirle che i posti di lavoro che sono cresciuti in questa fase sono per me insufficienti io non sono contento io voglio fare di più io non sono come quelli che nascondo la realtà dicendo va tutto bene i ristoranti sono pieni alle o io sto dicendo che possiamo fare di più ma nessuno può negare il fatto che quando noi siamo arrivati governo monti 2012 meno 2,3% governo letta 2013 meno 1,9% noi abbiamo riportato la crescita tra lo zero e l'uno per me è poco sono tre punti in più degli altri ma è poco allora qual è la vera sfida? dare incentivi a chi investe sul lavoro permettere alle aziende che vogliono finalmente creare posti di lavoro per esempio con industria 4.0 il piano che abbiamo lanciato ieri o con il grande grande investimento che stiamo facendo nel mezzogiorno che paradossalmente sta crescendo un po' di più del nord ma ha preso talmente tante botte negli ultimi 5 anni che prima di tornare al livello precrisi ha ancora molta strada da fare con queste soluzioni io credo che piano piano l'Italia ce la possa fare e io faccio il tipo per l'Italia quindi pensa che nel 2017 il PIL crescerà un po' di più dello 0,8%? sì io penso che nel 2017 andrà meglio del 2016 che è andato meglio del 2015 meglio del 2014 ma meglio Gruber non vuol dire bene cioè negare la realtà è un atteggiamento sbagliato sia quando dici che va tutto male come prima perché non è vero sia quando dici che abbiamo risolto tutti i nostri problemi il sano buonsenso ci porta a dire che noi abbiamo un paese bellissimo con un sacco di problemi che però possiamo affrontare la differenza è quella tra quelli che dicono soltanto di no e che non vogliono risolverli perché c'è la corruzione allora non faccio gli eventi ci sono i problemi allora non mi organizzo non do soluzioni e chi invece quotidianamente ci prova? finisco così do una piccola notizio sul tema della legge di stabilità noi il prossimo anno rispetteremo le regole europee anche quelle che io non condivido che non ho votato io per intendersi le hanno votate le ha votate una maggioranza che andava da Berlusconi il responsabile economico era Brunetta a Bersani il responsabile economico era Fassina quindi da Brunetta a Fassina hanno quelli che adesso ci spiegano come fare hanno firmato delle regole che sono per l'Italia regole capestro noi le rispettiamo c'è soltanto una cosa che io ho detto all'Unione Europea se voi pensate di prendere in giro l'Italia su due temi che sono l'immigrazione e il terremoto avete sbagliato destinatario io rispetto le regole europee ma nel momento in cui l'Europa non fa niente per sistemare la questione migrazione e dall'altro lato abbiamo avuto un terribile danno come quello del terremoto tutto ciò che servirà per l'immigrazione e tutto ciò che servirà per mettere a posto le scuole è prioritario rispetto al patto di stabilità quindi sarà fuori dal patto di stabilità credo che su questa posizione che ho illustrato a Jean-Claude Juncker venerdì mattina ci sia il consenso anche dell'Unione Europea e in ogni caso questo è un punto che per noi è fondamentale però Juncker proprio oggi ha detto che l'Italia ha già usufruito di flessibilità per 19 miliardi ma è un fatto positivo è vero e però suona un po' come un avvertimento siccome avete già goduto di un'ampia flessibilità non pensate di poterlo usufruire ancora ma lei sta annunciando che invece no 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 io sto annunciando una cosa molto semplice la flessibilità non c'era nei trattati europei ok? Jean-Claude Juncker ha legato il suo programma all'investimento in flessibilità lui è andato il 13 gennaio del 2015 al Parlamento Europeo lo stesso giorno in cui noi chiudevamo il semestre in cui avevamo combattuto per la flessibilità e ha detto il mio lavoro di Presidente della Commissione avrà con sé la flessibilità devo dire che è stato di parola e noi l'abbiamo utilizzata perché? perché altrimenti noi avremmo dovuto tagliare ancora e se continui a tagliare tagli gli investimenti un paese muore è la ricetta dell'austerity il contrario di quello che ha fatto Obama dall'altro lato però quello che noi diciamo è che noi rispettiamo le regole oggi ma sono le regole europee che ci dicono che in presenza di eventi eccezionali quali il terremoto e l'immigrazione si può e si deve si deve no si può utilizzare un margine diverso e noi lo utilizzeremo nel pieno rispetto delle regole europee e non pensa che verrà bacchettato severamente dall'Europa? con tutto l'affetto di questo mondo se devo essere bacchettato perché faccio mettere a posto le scuole degli italiani sono contento mi faccio bacchettare io non credo che avverrà ho fatto questo esempio a Juncker noi abbiamo avuto negli ultimi dieci anni tre terremoti qualcosa di più ma tre veramente imponenti terremoti l'Aquila l'Emilia e l'ultimo Amatrice Accumuli Arquata in questi eventi è evidente che io non credo che esista il rischio zero cioè l'idea di quelli che dicono vabbè adesso risolviamo tutto sistemiamo e non c'è più rischio per me non esiste per me il rischio zero non è dato in natura ma contemporaneamente se fai un intervento di adeguamento sismico come Dio comanda con il controllo delle autorità preposte io da padre sono più tranquillo e allora siccome trovo un sacco di gente che mi sta scrivendo e credo che stia scrivendo alle redazioni dei giornali che scrive alle redazioni delle trasmissioni televisive ho proposto che su questo tema senza divisione politica tutti insieme si possa lavorare ho chiamato Renzo Piano che non è propriamente un uomo di parte senatore a vita ho preso il rettore del Politecnico di Milano il professor Azione e ho chiesto a tutte le forze politiche dalla destra radicale alla sinistra radicale sul tema della sicurezza dei nostri figli possiamo non dividerci a me sembra un principio di buonsenso poi sul referendum sul Jobs Act sul resto si litiga su questo no mi sembra un fatto di buonsenso credo che siamo tutti d'accordo ha detto la parola magica referendum è giusto che Renzi dica non tutto va bene ma quello che uno si aspetterebbe è domandarsi ma perché in una fase di crescita con tutte le congiunzioni astrali europee favorevole con il cannone di draghi col petrolio basso eccetera noi siamo riusciti a creare nel 2015 138 mila posti di lavoro mentre nel 2014 senza il Jobs Act e in una fase ancora di recessione di posti ne erano stati creati 219 mila cioè bisognerebbe anche dire abbiamo sbagliato qualcosa a meno che lui non si senta così Fonzi sapete che Fonzi non riusciva a dire ho sbagliato dicevo e poi si fermava cioè qualcosa sarà sbagliato se abbiamo speso 30 miliardi per arrivare alla casa il consiglio è sempre lì Travaglio guardatevi non mi guarda ma non sono bello mi deconcentro e come vi concentratemi e naturalmente non appartengo ai gusti del direttore Travaglio e nemmeno lui è i miei quindi siamo come dire felicemente sullo stesso piano io non so se faccio Fonzi però le suggerirei di non fare Ralf Malf lei caro direttore cerchiamo di essere chiari Ralf Malf è un altro personaggio scusi no no perché su questo abbiamo una cultura simile lo so bene siamo preparati sull'argomento cerchiamo di essere chiari dal 2014 si è invertita la tendenza sui posti di lavoro perché sembra che qui qualcuno abbia portato la cicogna da quando io sono al governo grazie al lavoro collettivo di una squadra che ha come primo punto di riferimento su questi temi il ministro dell'economia Piercarlo Paduan persona molto più saggia e molto più brava di me abbiamo finalmente messo in campo una strategia per cui i posti di lavoro tornano ad avere il segno più io però siccome sono sincero e non sopporto quelli che hanno sempre la verità in tasca i maestrini con la penna rossa dico che a me non basta io voglio di più ma i dati che lei ha rinvio al fact checking da fare su fattocodidiano.it sono comunque dati sono comunque dati travaglio le confesso questa piccola cosa che appartengono al nostro governo lei vada a vedere i dati fino al 2013 sono tutti negativi all'improvviso le cose cambiano quanto al fatto che la situazione economica internazionale sia positiva lo pensa solo travaglio noi abbiamo la brexit è più favorevole è stata più favorevole nell'ultimo anno che negli anni passati che erano tre anni di recessione consecutiva questo lo riconoscerà non per gli altri d'altra parte mi scusi si siamo solo noi a crescita zero il resto d'europa è cresciuto del più 0,4 mentre noi ci siamo piantati nel secondo trimestre nel secondo trimestre noi abbiamo fatto zero come la Francia la Francia che ha avuto scioperi selvaggi contro la legge che voi invece avete fatto passare senza scioperi selvaggi senza scioperi selvaggi però le dico non è così ancora una volta i suoi dati sul lavoro non sono corretti ma non è un problema non voglio parlare di questo adesso andiamo referendum ultima replica sul tema i dati del lavoro del 2015 i dati del lavoro del 2016 segnano una cosa semplice che l'Italia se riduce le tasse che è la priorità numero uno se semplifica la giustizia civile e quello che ha a che fare con la pubblica amministrazione ce la può fare io lavoro con questo obiettivo abbiamo risolto molte crisi occupazionali però siccome sono onesto intellettualmente e anche non solo intellettualmente non ho voglia di dire che va tutto bene va meglio di prima ma c'è ancora molto da fare allora prima lei ha detto la parola magica referendum referendum costituzionale vi faccio vedere adesso il punto di Paolo Pagliaro perché ovviamente non è la prima volta che gli italiani vengono chiamati a una consultazione referendaria guardate politica e giornalismo sono in grande fibrillazione per l'approssimarsi del referendum presentato come il giorno del giudizio in realtà modifiche parziali o sostanziali della Costituzione non sono una novità nella storia della nostra Repubblica dal 1948 ad oggi sono state approvate dal Parlamento una quarantina di leggi e due riforme che hanno integrato o modificato profondamente il testo della Carta Costituzionale l'elenco si trova in un volumetto La Costituzione italiana scritto da Calogero Virzi e pubblicato in questi giorni dall'editore Trevisini con i tre articoli che modificano la parte prima è stata abolita la pena di morte prevista dalle leggi militari è stato esteso il diritto di voto agli italiani all'estero e sono state promosse le pari opportunità tra uomini e donne con i 16 articoli con cui è stata modificata la parte seconda si è intervenuti prevalentemente su norme che riguardano il funzionamento della macchina dello Stato dalla definizione del numero dei deputati eletti all'estero alla durata della legislatura dall'autorizzazione a procedere da parte delle Camere nei confronti dei parlamentari inquisiti alla regolamentazione delle norme su amnistia e indulto l'ultimo intervento è stato l'inserimento in Costituzione del pareggio di bilancio enunciato ideologico che peraltro risulta difficile rispettare una riforma radicale della Costituzione fu realizzata dal centro-sinistra nel 2001 con la modifica del titolo quinto riguardante i poteri di regioni province e comuni cinque anni dopo il centro-destra propose di modificare 52 articoli introducendo norme che avrebbero dovuto sancire l'avvento del federalismo della devolution e del premierato ma in questo caso la riforma approvata dal Parlamento fu bocciata dagli elettori con il referendum del 25 giugno 2006 la differenza tra allora e oggi è che allora si votò sulla Costituzione e non sul Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Renzi lei può ammettere che è stato un errore personalizzare questo referendum costituzionale? ammette? sì lo ammetto l'ho detto subito perché partivo dal presupposto di dare un messaggio di molta serietà di molta responsabilità nel momento in cui anziché parlare del quesito referendario ci siamo messi a parlare di me io ho detto ok togliamo dal campo tutto ciò che non serve la mia esperienza politica la mia carriera il mio governo è meno importante della riforma costituzionale quindi non ne parliamo più la legge elettorale io continuo ad essere convinto che sia un'ottima legge elettorale l'Italicum mi è stato detto toglila dal campo perché se la togli dal campo saremo più nelle condizioni di poter fare un dibattito vero sul referendum allora è stato un errore? sì oggi però c'è un quesito io me lo sono portato dietro perché non lo legge nessuno faccio come i radicali negli anni d'oro approvate voi il testo della legge costituzionale concernente superamento del bicameralismo paritario riduzione del numero dei parlamentari contenimento dei costi delle istituzioni soppressione del CNEL e revisione del titolo quinto si vota sì o no io voto sì a naso dico che travaglio vota no a naso su questo magari mi conosco e magari riesce a convincerlo sì possibilmente no con un titolo pieno di bugie diciamo la verità perché bugie? perché se uno scrive volete voi l'abolizione totale delle tasse volete guadagnare 50 milioni al mese dove è scritto? uno dice sì poi va a scoprire che non è vero però scusi Travaglio esattamente come non è vero che la legge che voi proponete fa le cose che dice quel titolo è benissimo allora siccome guardi siccome io non penso di poter convincere Travaglio però facciamo un servizio non lei provi a convincere c'è un unico modo per convincere Travaglio pare i tanti italiani che voteranno no per convincere Travaglio non vuol dire che io voto no a quel punto forse lui cambia bene ma andiamo sul punto no quello non è vero scusi la riduzione del numero dei parlamentari c'è o non c'è? le domando sì o no lei voterà no poi parliamo siccome lei dice che non c'è questo nel testo nel testo c'è la riduzione del numero dei parlamentari sì o no? è una furbata è una furbata scusi se lei nel titolo metteva se lei nel titolo metteva volete una riforma che vi impedirà di eleggere i senatori? secondo lei che cosa avrebbero risposto gli italiani che vogliono eleggere i deputati e i senatori? e le dirò perché è così no non è così gli italiani non eleggeranno più i senatori non avranno più la scheda del senato scusi questo è un punto fondamentale non è così nel senso che l'avete scritto il senato viene composto come il senato non fa più le funzioni di prima non dà più la fiducia mette naso in molte meno leggi di prima lavora anche molto meno come succede in Germania e in Francia è composto da sindaci e consiglieri regionali esattamente come avviene in altri paesi in Germania non ci sono né sindaci né consiglieri regionali sono i rappresentanti del governo regionale che è uno stato in Germania non ci sono i consiglieri regionali ma scusi in Germania ci sono i lender che corrispondono alle nostre regioni scusate però qui siamo alla commedia dell'assurdo è evidente che essendoci un sistema federale basato sui lender sono i lender e non le regioni ma perché si chiamano lender e non regioni poi hanno dei governi non sono i consigli che mandano il loro rappresentante al Senato no perdonatemi perché questo è un punto fondamentale la Germania che non ci entra niente non è vero perché sia la Germania che la Francia hanno sistemi analoghi poi in Germania si vota sulla base dello Stato in Francia si vota in un altro modo però non entro nel merito su cui lei ha detto una cosa che è enorme dal mio punto di vista ma la rispetto il punto però è che questo quesito non ha sì no è una porcata ha sì o no la riduzione del numero dei parlamentari è evidente perché il Senato fatto da 315 senatori passa a 100 cambiando funzioni e non è vero che non sono eletti perché se diciamo uno non del PD il sindaco di Roma o il sindaco di Napoli o anche il sindaco di Milano del PD va a rappresentare il proprio territorio nel Senato non è che uno non è eletto è chiaramente eletto per fare il sindaco non per fare il senatore perché il senato non fa più il senato come lo conosciamo oggi fa il luogo in cui si rappresentano i territori pensi come faranno i sindaci pensi come riusciranno a fare bene i sindaci se li mandate a metà settimana a fare i senatori a Roma ma lei se non è un sindaco in un'emergenza rifiuti terremoto alluvione che a metà settimana piglie e va a fare il senatore dovrà fare l'assenteista come sindaco per fare bene il senatore magari se il senato ha meno funzioni ma tanto è che i sindaci non lo vogliono fare il senatore perché non hanno nemmeno 24 ore di tempo per fare il loro mestiere Scusi su questo punto dei sindaci si 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 no ma le voglio aggiungere una domanda se il senato ha meno funzioni si riunirà anche di meno ma non c'è dubbio ora io apprezzo che due ho una domanda che prescinde da tutto questo ma questi sono i quesiti ma sono i veri quesiti questi che l'hai letto questo è il quesito questo è quello che ci sta ma non del titolo il titolo ce l'hanno messo loro sono furbi Travaglio qui conduco io conduco io un attimo voglio sapere da lei quindi questo è il quesito che si troveranno davanti gli elettori questo è il quesito che andrà nella scheda elettorale però vorrei chiedere una cosa Travaglio perché anzi no non la chiedo la dico poi Travaglio risponderà dica sono felice di vedere che lei adesso è esperto di sindaci tra l'altro come dire le scatta subito il meccanismo perché la prima cosa che dice i sindaci gestiscono l'emergenza rifiuti no qualche sindaco ha l'emergenza rifiuti la stragrande maggioranza non ha un problema di emergenza rifiuti ma questa è una battuta che mi passerà riferita all'assessore che lei preferisce l'assessore al comune di Roma vado nel merito della questione dei sindaci non ha nessun assessore non so che cosa sta dicendo l'assessore al comune di Roma sui rifiuti parli della riforma per favore non dica sciocchezze io non preferisco nessun assessore mai visto né conosciuto parli della riforma non difende dei suoi articoli è finalmente garantista sono contento parli della riforma pensate a tutti gli inquisiti che avete voi che non fate dimettere io ho chiesto le dimissioni io ho chiesto le dimissioni della Muraro visto che parla della Muraro io ho chiesto le dimissioni della Muraro per avere mentito fate dimettere tutti quelli che mentono nel vostro partito a cominciare da lei e poi scherziamo guardi Travaglio il fatto di quelli che mentono rispetto a lei mi dica dove io mento e ne riparliamo il punto vero però è che posso se vuole le faccio vedere dove lei mente con tutti i suoi articoli perché mi sono fatto una bella raccolta però vede io non sono il presidente del consiglio capisco il consiglio che mente è un po' più grave il punto vero è che lei ha scoperto un gioco meraviglioso che si chiama garantismo cioè quando vengono indagati quelli del PD chiede le dimissioni Travaglio quando vengono indagati quelli di 5 Stelle ho chiesto le dimissioni dell'assessore a 5 Stelle non mi fassi pacchettare lo intendo anche adesso un attimo prendi consiglio poi parli tu il fatto glielo dico con un sorriso che lei interrompa non cambierà niente rispetto alla realtà dei fatti infatti ho chiesto le dimissioni della Muraro e lei continua ad interrompere perché sono 5 Stelle ma due pesi e due misure chiesto le dimissioni della Muraro caro Travaglio sono felice che lei abbia scoperto il magico mondo del garantismo chiesto le dimissioni della Muraro entro nel merito del referendum di tutti i vostri stiamo al referendum per favore manderete in senato perché avete le regioni piene di inquisiti che manderete in senato con l'immunità parlamentare ora arrivo anche sull'immunità ma questo nel titolo non l'avete messo siccome c'è no no ma ci arrivo anche sull'immunità perché l'immunità passa oggi l'immunità ce l'hanno 945 persone dopo la riforma se passa il sì ce l'avranno 730 se passa il no ce l'avranno 945 quindi questa è l'ennesima è l'ennesima balla che lei dice toglietela a tutti Travaglio io non capisco che lei sia nervosa ma deve avere la pazienza se sono nervoso Marco Travaglio ti richiamo all'ordine per favore allora finiamo sul punto qui ognuno può finire di esprimere proprio pensiero e cominciare a prendere consiglio ne ho 4 o 5 da dire ma ne rimango a 2 perché se me la faccio lunga immunità io trovo che c'è in questo momento c'è solo un paese che sta cercando di togliere l'immunità ai parlamentari è la Turchia e credo che sia un errore e siccome io ho fatto sentire la mia voce perché si arrivasse a difendere i giornalisti che vengono messi in carcere gli insegnanti che vengono messi in carcere dico che l'immunità parlamentare storicamente ha avuto una certa funzione poi però sono d'accordo con Travaglio in un passaggio l'immunità parlamentare è diventata per molti aspetti in alcuni momenti una cosa dietro la quale uno si nasconde siccome qui dentro guardando in camera io dico che io non ho l'immunità parlamentare io non ho il vitalizio perché non è stato eletto io non ho in 12 anni avuto un avviso di garanzia da quando faccio politica non ho mai avuto un avviso di garanzia e questo per me come dire è quasi un elemento di autoterapia che ho fatto proprio niente nemmeno un avviso di garanzia pensi un po' io che ho fatto questo le dico che il modo con il quale voi state gestendo questa discussione non è serio perché l'immunità o vale per sempre o non vale per sempre quando trovo Carlo Sibiglia deputato dei 5 Stelle mi faccia parlare mi faccia parlare quando trovo Carlo Sibiglia deputato dei 5 Stelle che insulta il PD e per essere archiviato ha necessità di spolverare il tema dell'immunità sono d'accordo con lei nel dire rinuncino all'immunità e mi fa piacere che lei domani faccia nei prossimi giorni potrà far sentire la sua voce con me ma l'immunità per chi vota sì diventa per 730 persone per chi vota no rimane a 945 e vengo ai sindaci perché ho fatto il sindaco posso aggiungere io una piccola cosa questo lo dico per rispetto alle tante persone che sono per bene che sono elette nelle regioni italiane ecco ci sono non sono piene di inquisiti i consigli regionali ci sono anche ci sono 109 inquisiti dei consigli regionali ma lì ti rendi conto è una cosa mostruosa pensare che questi diventano senatori e si prendono l'immunità senza averne diritto perché dell'immunità può avere diritto uno che viene eletto apposta per fare il senatore ma uno che viene eletto per fare sindaco e poi diventa senatore e gli arriva l'immunità è assurdo allora io qui faccio il conduttore volevo semplicemente dire che le generalizzazioni quando si dice che i consigli regionali sono pieni di inquisiti ecco ci sono tante persone per bene che fanno politica non dimentichiamolo mai finisco sull'immunità finiamo nel populismo il tema dell'immunità è un tema io difendo il fatto che ci sia l'immunità contro lo strapotere del governo sul Parlamento o della magistratura sul Parlamento a condizione che questa sia regolata e disciplinata come oggi però per chi vuole ridurre l'immunità deve votare sì perché hanno 730 contro 945 vengono i sindaci il senato di oggi non è il senato che immaginiamo dopo la riforma perché è un senato quello dopo la riforma che è fatto da amministratori locali ogni sindaco di una grande città viene una volta la settimana a Roma per parlare con i ministeri partecipare alla conferenza Stato-Città così come pure i presidenti di regione partecipano alla conferenza delle regioni il punto è che noi diamo una veste diversa al senato e facciamo che lì in modo trasparente e aperto possano discutere però la novità qual è Gruber? la novità è che superando il bicameralismo per convincere il travaglio e io le devo anche chiedere superando il bicameralismo superando riducendo i costi delle istituzioni riducendo i costi delle istituzioni le devo dire che non è solo travaglio che votano pare secondo i sondaggi che ci saranno tantissimi italiani che voteranno no al referendum si chiama democrazia secondo i sondaggi la maggioranza io credo che alla fine quello che deciderà il popolo sarà quello che noi rispetteremo con grandissimo rispetto delle istituzioni il fatto che ci sia qualcuno che vota sì qualcuno che vota no la palissianamente mi sembra al minimo ci dice quando andremo a votare per il referendum? il 26 settembre decidiamo la data con 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza ma che sarà? entro l'anno perché devono essere tra i 50 e i 30 giorni tra il 27 novembre e il 4 dicembre è questo? in questo arco di tempo? questo è un arco di tempo possibile posso far vedere la semplificazione posso far vedere però poi arrivo su questo il punto fondamentale è che questa riforma è una riforma che è molto semplice se tu vuoi che la Camera e il Senato facciano le stesse cose fotocopia l'uno dell'altro lasci le cose come stanno e voti no se tu vuoi che i parlamentari continuino ad avere il Parlamento più costoso e più numeroso della storia occidentale voti no e passa la paura poi però non raccontate che le cose cambiano dopo perché se si vota no se di fronte a questa scheda la gente vota sì si riducono i parlamentari se vota no non troverai mai un Parlamento che voterà per ridurre la volta dopo i costi perché? perché il popolo avrà votato per il no questo è un punto che viene leggermente sottaciuto dai nostri amici del no non c'è un'altra riforma possibile perché prima che si faccia un'altra riforma si dovrebbe dire si dovrebbe cambiare rispetto alla posizione espressa dai cittadini e credo che non sarà la cosa più sellosa questo è l'articolo 70 della Costituzione di oggi nove parole questo è l'articolo 70 fatto dai semplificatori 438 parole chi lo legge non ci capisce niente Zagrebelsky ha detto smetto di insegnare se passa questa roba non per polemica perché non so capire che cosa vuol dire tant'è che crea chi dice 13 chi dice 8 chi dice 10 nuovi sistemi di approvazione delle leggi mentre oggi che siamo complicati ne abbiamo due cioè passiamo dal bicameralismo perfetto al bicameralismo cazzaro così come capita allora questa è una roba che uno se scrive così in una tesi o in un tema viene bocciato col 2 col 2 il segno rosso a scuola ecco noi abbiamo fatto scrivere questa la nuova Costituzione da degli analfabeti che non si esprimono in lingua italiana e che creeranno soltanto paralisi Renzi parla di risparmi io ero renziano quando gli sentivo dire dimezzeremo il numero dei deputati e dei senatori e poi gli dimezzeremo pure le indennità quello sì sarebbe stato un bel risparmio e ci avrebbe dato una Camera e un Senato equilibrati giustamente con poteri diversi ma non una Camera che resta a 630 e un Senatino che va a 100 Senatino che va a 100 ma che continuerà obbligatoriamente o facoltativamente a poter rivotare tutte le leggi che vota la Camera per cui poi torneranno indietro quindi non è vero niente che sparisce il ping pong Camera-Senato questa è la tragedia io sono preoccupato perché adesso il Partito Democratico si sta rendendo conto non so Renzi come la pensi davvero che l'Italico è stata una baccata tant'è che stanno tornando indietro allora io non vorrei non vorrei perché dopo che vince il sì loro si rendessero conto che era una baccata anche questa come l'Italicum ma l'Italicum lo ritirano con una maggioranza semplice questo ce lo ciucciamo per 30 anni perché ci vogliono i due terzi del Parlamento per cambiare una riforma costituzionale e quindi noi ci teniamo una roba scritta coi piedi che dura per 20 o 30 anni pensiamoci io credo che il noto costituzionalista Travaglio abbia utilizzato delle espressioni tipiche della dottrina costituzionale migliore da ciucciare a Cazzaro ad altre espressioni di grande valore costituzionale Cacciari ha detto che è una cutanata la vostra riforma però per quale modo lei vuole difendere la democrazia e non riesce almeno ad accendere l'orecchio almeno una volta ogni tanto abbia la compiacenza di ascoltare gli altri non ha la verità ma sa quanto l'ho ascoltata benissimo allora ora si fermi e parlo io il 70 della Costituzione era previsto per Camera e Senato che fanno le stesse cose è stato cambiato perché il Senato non farà più le stesse cose non darà più la fiducia e questo darà più stabilità ai governi basta leggerlo per capirlo non sono tutti di Maio c'è anche chi le capisce nei mail quando le apre ma lei guardi Travaglio lei può fare quello che crede ma quello è un provvedimento scritto nel dettaglio che per chi segue il diritto parlamentare è molto serio in cui si dice quello che accade per evitare che vi siano dubbi e si faccia quel ricorso costante alla Corte Costituzionale che dopo la riforma del titolo quinto per esempio sui poteri delle regioni ha bloccato i lavori della Corte quello che a me stupisce è che si pongono degli argomenti formali come è stato scritto dopo 121 modifiche del Parlamento perché questa è la democrazia rispetto a un tema sostanziale oggi Camera e Senato sono due grandi assemblee di condominio tu vinci così la raccontiamo bene vediamo di parlare con un linguaggio meno costituzionalista di quello che utilizza lei con grande eloquio e con grande capacità di affrontare i temi andiamo nel merito oggi tu fai una legge e la mandi al Senato il Senato te la ricambia ma il Senato è fatto uno da un elettorato e viene eletto da gente diversa di quella che legge la Camera perché l'elettorato è sotto i 25 anni sapete che al Senato si vota sopra i 25 anni e fa esattamente le stesse cose perché il costituente del 46-47 non si trovò d'accordo la DC e il PC avevano opinioni diverse e scelsero questo compromesso è più semplice è chiaro che per dover per dover elencare nel dettaglio cosa accade nell'uno o nell'altro caso devi andare nel merito questo è il 70 ma si può scriverlo in italiano però si può scriverlo in italiano non in Ostrogoto questa si chiama democrazia e la democrazia questo è Ostrogoto questo sono punti di vista lei evidentemente è esperto anche di Ostrogoto ma non si capisce perché si dimezzano i deputati perché non si dimezzano i deputati dice Travaglio io sono sempre stato favorevole al dimezzare i deputati e sono favorevole anche sì ma non c'è una dittatura in Italia c'è un meccanismo in cui si va in Parlamento e si guarda che numeri ci sono quando vuol far passare qualcosa lei ci mette la fiducia e la fa passare diciamo la verità Travaglio la sua incompetenza costituzionale è impressionante non si mette la fiducia sulla riforma costituzionale avete fatto i canguri per tagliare le ostruzioni avete fatto forzature di un genere per far passare le cose se parla di Costituzione Renzi siamo pochissimi secondi ve la siete fatta da soli dopo che Perlusconi è andato via vi ha lasciati i soli per un anno è impressionante come lei non conosca il regole è impressionante Travaglio Renzi non è soltanto repliche rapidamente perché io ho due domande ma nemmeno quelle della Costituzione non si mette la fiducia sulla riforma costituzionale vengo sui costi i costi li abbiamo già elencati no perché sono 500 milioni di euro di risparmi allora di fronte a questo io dico se i senatori non prendono più un centesimo se il Senato modifica la propria funzione il Partito Democratico prende 6 milioni di euro l'anno di rimborsi dal Senato Grillo che dice di rinunciare prende 2 milioni e 400 mila euro e ci paga con questo le sue strutture di comunicazione noi stiamo togliendo il giochino ai partiti chi vota sì toglie i meccanismi di finanziamento che abbiamo appena detto chi vota no lascia la casta questo è un punto che Travaglio si è dimenticato di dire casualmente però ha posto il tema di come l'articolo 70 è stato scritto che basta saper leggere il diritto parlamentare non tutti sono vicepresidenti della Camera che non aprono le email allora io voglio adesso voglio sapere da Renzi una cosa Renzi se dovesse vincere il no lei sarebbe disposto a un governo di scopo che a quel punto dovrebbe cambiare la legge elettorale sarebbe indispensabile farlo? ma secondo lei io vengo a parlare di quello che faccio dopo dopo aver detto che tolgo dal tavolo questo argomento non ne parlo neanche sotto tortura di quello che faccio io mi è molto chiaro ma non ne parlo più però lei ha detto che se ne va se vince il no succede una cosa semplice noi ci teniamo questo Parlamento con questi costi delle istituzioni con il CNEL con i poteri delle regioni con i rimborsi ai consiglieri regionali che si comprano le mutande verdi in alcuni casi come i leghisti in Piemonte e li mandate in senato quelli che si comprano le mutande i fatti senatori quelli che si comprano le mutande gli date pure l'immunità non è così travaglio l'immunità allora basta basta facciamo lo spieghino no 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 abbiamo già spiegato Renzi non è così sono i cittadini che scelgono quale sindaco e quale consigliere regionale quale sindaco e quale consigliere regionale va a rappresentare il proprio territorio ma la differenza è che se passa il sì le mutande verdi non se le comprano perché togliamo i rimborsi ai consiglieri regionali se passa il no si tiene i rimborsi ai consiglieri regionali e lei mi fa piacere che rida perché vuol dire che finalmente si è sciogli allora no 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 travaglio un attimo io adesso voglio sapere da Renzi ma come fa voglio sapere da Renzi una cosa voglio sapere una cosa che non è un'opinione lei faccia il conto Presidente no non voglio più sentirvi adesso perché devo chiudere no travaglio ha detto è qua l'ha messo nel suo libro travaglio ma non sapeva nemmeno che non si mette la riforma la fiducia sulla riforma costituzionale mi ci fa sul libro ecco basta tu basta non ho detto che deve mettere la fiducia cambia che si mancherebbe i poteri del premio cambia o no con questa riforma costituzionale cambia o no no il premio diventa molto più potente grazie all'italicum e al combinato disposto cioè all'incrocio tra riforma e legge elettorale lei può dire che i poteri del premier non cambiano al contrario di quello che avete detto per mesi io ho sempre detto che con l'italicum più la riforma l'italicum cambierà presidente Renzi Renzi devo chiudere vi tolgo l'audio e faccio tutto da sola mi spieghi intanto l'italicum è morto l'italicum è morto è sepolto se il Parlamento come viene detto da tutti è disponibile a cambiare la legge elettorale noi ci stiamo e certo mi colpisce un po' perché qualcuno vuole il proporzionale puro che ha una legge che è quella della prima repubblica che però rischia rischia gli inciuci cioè a quel punto devi fare un governo di grande coalizione a naso lei a questo punto la deve cambiare anche perché io sono disponibile sono siccome questa è una sua valutazione che non conosco io sono disponibile a cambiare la legge elettorale qualunque sia la decisione della corte un ultimissimo più disponibile non mi ha detto se se ne andrà se vince il no le ho già risposto che non le parlo più di questioni non ne parliamo più lei sa perfettamente che quanto a me personalmente lo dico proprio con il cuore in mano costa non mettermi qui a dire perché sono convinto che l'italicum sia buono cosa voglio fare però non lo faccio per un motivo siamo impiegato quasi un'ora Gruber questa riforma a mio giudizio può dare finalmente all'italia l'agilità la semplicità di cui il paese ha bisogno io giro per il mondo gli incontri internazionali e siamo gli unici ad avere il ping pong tra una camera e l'altra continueremo ma l'abbiamo spiegato presidente del consiglio le voglio chiedere la ministra Lorenzin è nella bufera per la seconda volta perché questi opuscoletti che portano una foto ecco la vediamo è stata giudicata razzista eccetera eccetera molti chiedono le dimissioni della ministra dovrebbe dimettersi la ministra Lorenzin no ma non scherziamo il punto vero è che questa è una cosa tecnicamente parlando inguardabile dal punto di vista della comunicazione credo penso che possiamo condividere su questo passaggio quindi questo manifesto è sbagliato è sbagliato l'ha detto anche lei però cambierà seguire da uno bravo perché è la seconda volta devo chiudere devo chiudere non si deve dimettere mi faccia dire una cosa su Lorenzin Lorenzin ha posto un tema vero questo della mancata crescita demografica dopodiché il tema vero giusto lo hanno raccontato in un modo che fa alzare i capelli anche a Berlusconi allora il punto secondo Berlusconi nel senso ho detto il primo che mi è venuto in mente calvo il punto centrale non volevo essere citare Berlusconi in presenza di Travaglio il punto fondamentale è che i danesi hanno fatto una campagna di comunicazione fantastica allora ho chiesto a tutti chiederò anzi perché ancora l'ho detto soltanto a qualcuno a tutti i ministri se gentilmente quando si fa le campagne di comunicazione prima di partire a fare una campagna di comunicazione si fa un po' di punto della situazione insieme si guardano i dati e magari si coordinano un pochino meglio grazie grazie Marco Travaglio grazie Presidente del Consiglio grazie per aver accettato il nostro invito e ad aver accettato questo chiamiamolo duello insieme a Marco Travaglio speriamo di proseguirlo magari Travaglio legge persino il quesito la prossima volta magari Travaglio legge il quesito magari vi riuscirete a convincere entrambi adesso devo chiudere Travaglio devo chiudere devo chiudere e devo soprattutto con grande piacere dare la linea a Corrado Formilli che riprende da stasera il suo Piazza Pulita non perdetevelo ci sarà anche Sabina Guzzanti con il suo Tg Porco che come capite dal nome stesso un programma nel momento in cui anziché parlare del quesito referendario ci siamo messi a parlare di me io ho detto ok togliamo dal campo tutto ciò che non serve la mia esperienza politica la mia carriera il mio governo è meno importante della riforma costituzionale quindi non ne parliamo più la legge elettorale io continuo ad essere convinto che sia un'ottima legge elettorale l'Italicum mi è stato detto toglila dal campo perché se la togli dal campo saremo più nelle condizioni di poter fare un dibattito vero sul referendum allora è stato un errore sì oggi però c'è un quesito io me lo sono portato dietro perché non lo legge nessuno faccio come i radicali negli anni d'oro approvate voi il testo della legge costituzionale concernente superamento del bicameralismo paritario riduzione del numero dei parlamentari contenimento dei costi delle istituzioni soppressione del CNEL e revisione del titolo quinto si vota sì o no io voto sì a naso dico che travaglio vota no a naso su questo magari riesce a convincerlo possibilmente no con un titolo pieno di bugie diciamo la verità perché se uno scrive volete voi l'abolizione totale delle tasse volete guadagnare 50 milioni al mese uno dice sì poi va a scoprire che non è vero esattamente come non è vero che la legge che voi proponete fa le cose che dice quel titolo è benissimo allora siccome guardi siccome io non penso di poter convincere travaglio però facciamo un servizio però lei provi a convincere i tanti italiani che voteranno no a quel punto forse lui cambia bene ma andiamo sul punto no quello non è vero scusi la riduzione del numero dei parlamentari c'è o non c'è le domande sì o no lei voterà no poi parliamo siccome lei dice che non c'è questo nel testo nel testo c'è la riduzione del numero dei parlamentari è una furbata è una furbata scusi se lei nel titolo metteva se lei nel titolo metteva volete una riforma che vi impedirà di eleggere i senatori secondo lei che cosa avrebbero risposto gli italiani che vogliono eleggere i deputati e i senatori non è così e le dirò perché è così no non è così gli italiani non eleggeranno più i senatori non avranno più la scheda del senato scusi questo è un punto fondamentale regionali non è così l'avete scritto il senato viene composto come il senato non fa più le funzioni di prima non dà più la fiducia mette naso in molte meno leggi di prima lavora anche molto meno tutte come succede in Germania e in Francia è composto da sindaci e consiglieri regionali esattamente come avviene in altri paesi tra cui la Francia e la Germania non ci sono né sindaci né consiglieri regionali ci sono sono i rappresentanti del governo regionale che è uno stato in Germania non ci sono i consiglieri regionali ma scusi in Germania ci sono i lender che corrispondono alle nostre regioni scusate però qui siamo alla commedia dell'assurdo è evidente che essendoci un sistema federale basato sui land sono i land e non le regioni ma perché si chiamano land e non regioni poi hanno dei poteri non sono i consigli non sono i consigli che mandano i loro rappresentanti del senato perdonatemi perché questo è un punto fondamentale la Germania che non c'entra niente non è vero perché sia la Germania che la Francia hanno sistemi analoghi poi in Germania si vota sulla base dello Stato in Francia si vota in un altro modo però non entro nel merito su cui lei ha detto una cosa che è enorme dal mio punto di vista ma la rispetto il punto però è che questo quesito non ha sì no è una porcata ha sì o no la riduzione del numero dei parlamentari è evidente perché il senato fatto da 315 senatori passa a 100 cambiando funzioni e non è vero che non sono eletti perché se diciamo uno non del PD il sindaco di Roma o il sindaco di Napoli o anche il sindaco di Milano del PD va a rappresentare il proprio territorio nel senato non è che uno non eletto è chiaramente eletto per fare sindaco non per fare senatore perché il senato non fa più il senato come lo conosciamo oggi fa il luogo in cui si rappresentano i territori pensi come faranno i sindaci pensi come riusciranno a fare bene i sindaci se li mandate a metà settimana a fare i senatori a Roma ma lei se non vede un sindaco in un'emergenza rifiuti terremoto alluvione che a metà settimana piglia e va a fare il senatore dovrà fare l'assenteista come sindaco per far bene il senatore o l'assenteista magari se il senato ha meno funzioni ma tanto è che i sindaci non lo vogliono fare il senatore perché non hanno nemmeno 24 ore di tempo per fare il nord travaglio voglio capire un attimo se il senato ha meno funzioni si riunirà anche di meno ma non c'è dubbio ora io apprezzo due ho una domanda che prescinde da tutto questo ma questi sono i veri quesiti questi che lei ha letto questo è il quesito è il quesito quindi questo è quello che ci troviamo ma non del titolo il titolo ce l'hanno messo loro sono furbi sono qui sono qui sono qui qui conduco io conduco io un attimo voglio sapere da lei quindi questo è il quesito che si troveranno davanti gli elettori questo è il quesito che andrà nella scheda elettorale però vorrei chiedere una cosa a Travaglio perché anzi no non la chiedo la dico poi Travaglio risponderà dica sono felice di vedere che lei adesso è esperto di sindaci tra l'altro come dire le scatta subito il meccanismo perché la prima cosa che dice i sindaci gestiscono l'emergenza rifiuti no qualche sindaco ha l'emergenza rifiuti la stragrande maggioranza non ha un problema di emergenza rifiuti ma questa è una battuta che mi passerà riferita all'assessore che lei preferisce l'assessore al comune di Roma vado nel merito della questione dei sindaci io non conosco nessun assessore non so che cosa sta dicendo l'assessore al comune di Roma sui rifiuti non dica sciocchezza io non preferisco nessun assessore mai visto né conosciuto parli della rifornia non lo difende nei suoi articoli è finalmente garantista sono contento parli della rifornia sul tema della riduzione del numero dei parlaquisiti che avete voi che non fate dimettere io ho chiesto le dimissioni io ho chiesto le dimissioni della Muraro visto che parla della Muraro io ho chiesto le dimissioni della Muraro per avere mentito fate dimettere tutti quelli che mentono nel vostro partito a cominciare da lei e poi scherziamo guardi Travaglio il fatto di quelli che mentono rispetto a lei mi dica dove io mento e ne riparliamo il punto vero però è che posso se vuole le faccio vedere dove lei mente con tutti i suoi articoli perché mi sono fatto una bella raccolta però vede io non sono il presidente del consiglio capisciore no sente il consiglio che mente è un po' più grave che non il punto vero è che lei ha scoperto un gioco meraviglioso che si chiama garantismo cioè quando vengono indagati quelli del PD c'è delle dimissioni Travaglio quando vengono indagati quelli dei 5 Stelle fatti ho chiesto le dimissioni dell'assessore a 5 Stelle fatto che lei la intendo anche adesso è un attimo fai parlare il presidente del consiglio poi parli tu e il fatto glielo dico con un sorriso che lei interrompa non cambierà niente rispetto alla realtà dei fatti infatti ho chiesto le dimissioni della Muraro e lei continua ad interrompere perché sono 5 Stelle ma due pesi e due misure chiesto le dimissioni della Muraro caro Travaglio sono felice che lei abbia scoperto il magico mondo del garantismo chiesto le dimissioni della Muraro entro nel merito del referendum stiamo al referendum per favore manderete in senato perché avete le regioni piene di inquisiti che manderete in senato con l'immunità parlamentare ora arrivo anche sull'immunità ma questo nel titolo non l'avete messo siccome c'è no no ma ci arrivo anche sull'immunità perché l'immunità passa oggi l'immunità ce l'hanno 945 persone dopo la riforma se passa il sì ce l'avranno 730 se passa il no ce l'avranno 945 quindi questa è l'ennesima è l'ennesima balla che lei dice toglietela a tutti Travaglio io non capisco che lei sia nervosa ma deve avere la faccia non si fuggire se sono nervoso Marco Travaglio ti richiamo all'ordine per favore allora finiamo sul punto specifico ognuno può finire di esprimere proprio pensiero e cominciare a prendere consiglio ne ho 4 o 5 da dire ma ne rimango a 2 perché se no faccio lunga immunità io trovo che c'è in questo momento c'è solo un paese che sta cercando di togliere l'immunità ai parlamentari è la Turchia e credo che sia un errore e siccome io ho fatto sentire la mia voce perché si arrivasse a difendere i giornalisti che vengono messi in carcere gli insegnanti che vengono messi in carcere dico che l'immunità parlamentare storicamente ha avuto una certa funzione poi però sono d'accordo con Travaglio in un passaggio l'immunità parlamentare è diventata per molti aspetti in alcuni momenti una cosa dietro la quale uno si nasconde siccome qui dentro guardando in camera io dico che io non ho l'immunità parlamentare io non ho il vitalizio perché non è stato eletto io non ho in 12 anni avuto un avviso di garanzia da quando faccio politica non ho mai avuto un avviso di garanzia e questo per me è quasi un elemento di autoterapia che ho fatto proprio niente nemmeno un avviso di garanzia pensi un po' io che ho fatto questo le dico che il modo con il quale voi state gestendo questa discussione non è serio perché l'immunità o vale per sempre o non vale per sempre quando trovo Carlo Sibiglia deputato dei 5 Stelle mi faccia parlare mi faccia parlare quando trovo Carlo Sibiglia deputato dei 5 Stelle che insulta il PD e per essere archiviato ha necessità di spolverare il tema dell'immunità sono d'accordo con lei nel dire rinuncino all'immunità e mi fa piacere che lei domani nei prossimi giorni potrà far sentire la sua voce con me ma l'immunità per chi vota sì diventa per 730 persone per chi vota no rimane a 945 e vengo ai sindaci perché ho fatto il sindaco posso aggiungere io una piccola cosa questo lo dico per rispetto alle tante persone che sono per bene che sono elette nelle regioni buonasera benvenuti a 8 e mezzo buonasera benvenuto Matteo Renzi presidente del Consiglio segretario del Partito Democratico e buonasera bentornato Marco Travaglio direttore del Fatto Quotidiano allora presidente cominciamo subito dalle Olimpiadi perché dopo il no di Virginia Raggi il capitolo Olimpia di Roma è chiuso o no? credo proprio di sì dipenderà formalmente dalla decisione del Consiglio Comunale però immagino che se il sindaco di Roma ha scelto di dire no evidentemente immagina di avere la sua maggioranza con lei quindi loro dovranno fare credo una delibera ufficiale per giustificare il marcia indietro se i consiglieri la voteranno nessuno di noi intende fare le Olimpiadi contro l'amministrazione comunale che deve ospitarle ma non l'ha sorpresa il no della Raggi l'aveva detto in campagna elettorale io sto cercando l'avete visto anche durante i momenti di polemica che ci sono stati per gli assessori di Messi per quelli dimissionabili di non fare mai polemica con il sindaco di Roma perché lei ha vinto e io faccio il tifo per l'Italia io non sono contro gli altri quindi se Roma va bene sono contento se Roma va male mi dispiace da quello che mi ricordo ma può darsi che mi ricordi male in campagna elettorale Virginia Raggi si era impegnata a fare un referendum però credo che alla fine la titolarità è del consiglio comunale e del sindaco per cui se lei decide di far questo non mi sorprende devo dire un po' mi amareggia mi amareggia una cosa essenzialmente l'idea che si dà al paese che una grande opportunità come quella delle Olimpiadi non si possa fare perché c'è il rischio che qualcuno rubi e questo atteggiamento è francamente impressionante cioè se noi come politici non proviamo a cambiare le cose ma ci limitiamo a protestare non andremo mai da nessuna parte io quando sono arrivato a Palazzo Chigi all'Expo mi hanno detto tutti non fare l'Expo non fare l'Expo in otto giorni abbiamo messo Cantone abbiamo lavorato con la procura di Milano abbiamo cacciato i ladri l'Expo è stato un grande successo i grillini avrebbero avuto otto anni per sistemare Roma e mi dispiace che abbiano deciso di no detto questo rispetto in bocca al lupo e si va avanti chi invece è d'accordo con la sindaca Raggi è Marco Travaglio e il tuo giornale Il Fatto forse è la Raggi che è d'accordo con noi perché noi ci siamo schierati contro le Olimpiadi a Roma già quando Monti col quale non eravamo teneri rinunciò alle Olimpiadi del 2020 hai scritto comunque oggi che il vero vincitore di questa partita è Virginia Raggi è la città di Roma il vincitore di questa partita perché non credo che la contrarietà alle Olimpiadi sia il rischio dei ladri quello sarebbe stato un autogol clamoroso perché vorrebbe dire che i 5 Stelle non sono in grado di tenerli lontani i ladri io credo che dipenda dai costi io mi ero studiato abbiamo fatto una puntata di ricordi con Malagò prima delle elezioni dove per la verità Malagò era stato piuttosto convincente Malagò il presidente del CONI il dossier dell'università di Oxford che spiega gli extracosti delle Olimpiadi dice chiaramente che anche se non si ruba le Olimpiadi sono una trambata pazzesca per chi se le aggiudica per vincere le Olimpiadi bisogna perderle fino al 1999 Montreal 720% di costi in più rispetto al budget Barcellona 266% in più Atlanta 151% in più Sydney 90% in più Atene 49% in più è stato l'inizio del crollo definitivo della Grecia Londra 76% in più Rio vedremo ma si parla di più del 50% in più è evidente che è una macchina che non può funzionare in attivo come del resto tutti i grandi eventi Renzi parlava dell'Expo Expo è costato più di 2 miliardi e ha incassato 600 milioni quindi sono tutte operazioni in perdite poi magari Milano non è al dissesto Roma ha 13 miliardi di debiti e quindi deve fare i conti col fatto di non poter aggiungere nemmeno un euro a quel debito io ho una visione direi ontologicamente diversa da quella di Travaglio non è sull'unica cosa per cui credo che nessuno sia stupito di questo io faccio il tifo per l'Italia non solo calcisticamente a differenza di Travaglio che fa il tifo per la Germania quando ci sono le partite ogni tanto ogni tanto non sempre quella di Berzotto l'ho tifata io faccio sempre il tifo per l'Italia perché è giusto o sbagliato il mio paese ma a differenza di Travaglio io penso che questa fosse una grandissima opportunità per la città di Roma sono stato da piccolo a Barcellona prima del 92 e l'ho vista trasformata e ho visto Londra come è cambiata in questi anni si può pensare tutto quello che si crede dei costi delle Olimpiadi ma una buona amministrazione quelli che vogliono cambiare le cose non fanno l'elenco dei costi delle altre amministrazioni prendono e cambiano le cose questo è il punto vero proprio quello direi impressionante caro Travaglio di questa decisione il punto impressionante secondo me è che come se i grillini avessero detto noi ammettiamo che non riusciremo a cambiare le cose perché se avessero voluto cambiare le cose avendo non sento di finire scusami non ti ho interrotto se avessero voluto cambiare davvero le cose in cinque anni di governo e magari se vanno bene in dieci perché hanno due i mandati davanti a sé avrebbero potuto dire che gestivano il progetto in un altro modo fatto sta che ieri hanno festeggiato Los Angeles e Parigi e ieri si sono lamentati direi che hanno pianto lacrime amare non quelli del coni e basta ma gli sportivi e magari quelle tante realtà che potevano avere un ritorno nelle loro città io ho visto parole molto belle da sindaci di colore diverso che però sono tristi perché le Olimpiadi non si fanno detto questo rispetto per il sindaco perché noi se la Raggi dice no prendiamo atto e parliamo di atto comunque partita chiusa noi andiamo in pubblicità tra poco in Parlamento andrà in discussione la legge di stabilità il governo deve decidere dove tagliare dove risparmiare dove spendere quindi insomma è un momento importante per il nostro paese e anche per l'Europa allora voi dovrete confermare gli 80 euro gli eco bonus lei mi correga se valio dovrete finanziare il taglio dell'IRES impedire che scattino le clausole dell'aumento dell'IVA e delle accise sulla benzina intanto tutto questo è confermato? tutto è confermato tutto è confermato se c'è una cosa buona che credo condividano tutti in questi anni è che non abbiamo mai fatto scattare le clausole di salvaguardia cioè quelle tasse che vengono messe se per caso non si non si verificano certe certe situazioni particolari l'ultima volta che è scattata la clausola di salvaguardia dell'IVA cioè che è aumentata la tassazione è stato il primo ottobre del 2013 c'era un altro governo non c'era il nostro quindi le tasse continuano ad andare giù certo è che io preferirei che l'economia andasse un po' più forte però le tasse continuiamo a mandarle giù continuate a mandarle giù con quali soldi se le posso chiedere perché lei sta chiedendo all'Europa anche in queste ore anche in questi giorni più flessibilità e anche perché deve spendere un sacco di soldi nella legge di stabilità più correttamente noi non stiamo questo è molto importante perché noi non stiamo chiedendo più flessibilità all'Europa o meglio noi stiamo chiedendo all'Europa di cambiare propriamente politica economica la flessibilità è un concetto complicato rispetto al fiscal compact cioè i governi di prima hanno firmato un patto il fiscal compact che praticamente ci costringe a tagliare molto 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 in nome dell'austerity la flessibilità è un tentativo di ridurre questa discesa perentoria degli investimenti ma questa parte qui è secondaria io sto soltanto dicendo che con Obama gli Stati Uniti in otto anni sono tornati a crescere e hanno il segno più l'Europa in questi otto anni non ha funzionato detto questo va giù l'IRES che è una tassa importante per le aziende va giù l'IRI che è la tassa per le piccole imprese vengono confermati tutti i nostri impegni gli 80 euro per le famiglie gli 80 euro per i carabinieri i vigili del fuoco i poliziotti e compagnia bella vengono confermati l'impegno che tutti dicevano essere impossibile cioè che non si paga più la tassa sulla prima casa in più vediamo se riusciamo a dare vengono confermati gli incentivi poi gli ecobonus vediamo se riusciamo a dare anche un aiuto in più a chi investe dare più denaro a chi metterà denaro per rimettere a posto che so un albergo o per rimettere a posto fare un investimento tecnologico nell'azienda ecco un super ammortamento fiscale uno sconto fiscale a chi anziché tenersi i soldi in tasca li mette per creare occupazione poi mi dice concretamente questo che cosa vuol dire però mi ha proposto di abbassare le tasse non è difficile cioè se lei c'è un albergo e rimette a posto l'albergo avrà uno sconto fiscale se lei in azienda si mette i soldi in tasca perché è un proprietario dell'azienda non le abbassiamo le tasse se invece quei soldi li mette in macchinari in nuovi strumenti tecnologici in investimenti in ricerca ne diamo uno sconto fiscale che si chiama super ammortamento cioè già da quest'anno l'uomo interebbe ecco ci sono non sono piene di inquisiti i consigli regionali ci sono anche ci sono 109 inquisiti nei consigli regionali ma io non sto di conto è una cosa mostruosa pensare che questi diventano senatori che si prendono l'immunità senza averne diritto perché dell'immunità può avere diritto uno che viene eletto apposta per fare il senatore ma io sono conto uno che viene eletto per fare il sindaco ecco e poi diventa senatori arriva l'immunità allora io qui faccio il conduttore volevo semplicemente dire che le generalizzazioni quando si dice che i consigli regionali sono pieni di inquisiti ecco ci sono tante persone per bene che fanno politica non dimentichiamolo mai perché se no finisco sull'immunità finiamo nel populismo il tema dell'immunità è un tema io difendo il fatto che ci sia l'immunità contro lo strapotere del governo sul parlamento o della magistratura sul parlamento a condizione che questa sia regolata e disciplinata come oggi scusi però per chi vuole ridurre l'immunità deve votare sì perché hanno 730 contro 945 il senato di oggi non è il senato che immaginiamo dopo la riforma perché è un senato quello dopo la riforma che è fatto da amministratori locali ogni sindaco di una grande città viene una volta la settimana a Roma per parlare con i ministeri partecipare alla conferenza stato-città così come pure i presidenti di regione partecipano alla conferenza delle regioni il punto è che noi diamo una veste diversa al senato e facciamo che lì in modo trasparente e aperto possano discutere però la novità qual è? Gruber la novità è che superando il bicameralismo e io le devo anche chiedere superando il bicameralismo superando riducendo i costi delle istituzioni riducendo i costi delle istituzioni le devo dire che non è solo Travaglio che votano pare secondo i sondaggi che ci saranno tantissimi italiani che voteranno no al referendum si chiama democrazia secondo alcuni sondaggi la maggioranza io credo che alla fine quello che deciderà il popolo sarà quello che noi rispetteremo con grandissimo rispetto delle istituzioni il fatto che ci sia qualcuno che vota sì qualcuno che vota no la palissianamente mi sembra al minimo ci dice quando andremo a votare per il referendum? il 26 settembre decidiamo la data con 20 giorni d'anticipo rispetto alla scadenza e quindi entro l'anno perché devono essere tra i 50 e i 70 giorni entro l'anno sì tra il 27 novembre e il 4 dicembre è questo? in questo arco di tempo? questo è un arco di tempo possibile posso far vedere la semplificazione posso far vedere però poi arrivo su questo il punto fondamentale è che questa riforma è una riforma che è molto semplice se tu vuoi che la Camera e il Senato facciano le stesse cose fotocopia l'uno dell'altro lasci le cose come stanno e voti no se tu vuoi che i parlamentari continuino ad avere il Parlamento più costoso e più numeroso della storia occidentale voti no e passa la paura poi però non raccontate che le cose cambiano dopo perché se si vota no se di fronte a questa scheda la gente vota sì si riducono i parlamentari se vota no non troverai mai un Parlamento che voterà per ridurre la volta dopo i costi perché? perché il popolo avrà votato per il no questo è un punto che viene leggermente sottaciuto dai nostri amici del no non c'è un'altra riforma possibile perché prima che si faccia un'altra riforma si dovrebbe dire si dovrebbe cambiare rispetto alla posizione espressa dai cittadini e credo che non sarà la cosa più semplice questo è l'articolo 70 della Costituzione di oggi nove parole questo è l'articolo 70 fatto dai semplificatori 438 parole chi lo legge non ci capisce niente Zagrebelsky ha detto smetto di insegnare se passa questa roba non per polemica perché non so capire che cosa vuol dire tant'è che crea chi dice 13 chi dice 8 chi dice 10 nuovi sistemi di approvazione delle leggi mentre oggi che siamo complicati ne abbiamo due cioè passiamo dal bicameralismo perfetto al bicameralismo cazzaro così come capita allora questa è una roba che uno se scrive così in una tesi o in un tema viene bocciato col 2 col 2 il segno rosso a scuola ecco noi abbiamo fatto scrivere questa la nuova Costituzione da degli analfabeti che non si esprimono in lingua italiana e che creeranno soltanto paralisi Renzi parla di risparmi io ero renziano quando gli sentivo dire dimezzeremo il numero dei deputati e dei senatori e poi gli dimezzeremo pure le indennità quello sì sarebbe stato un bel risparmio e ci avrebbe dato una Camera e un Senato equilibrati giustamente con poteri diversi ma non una Camera che resta a 630 e un Senatino che va a 100 Senatino che va a 100 ma che continuerà obbligatoriamente o facoltativamente a poter rivotare tutte le leggi che vota la Camera per cui poi torneranno indietro quindi non è vero niente che sparisce il ping pong Camera Senato questa è la tragedia io sono preoccupato perché adesso il Partito Democratico si sta rendendo conto non so Renzi come la pensi davvero che l'Italicum è stata una vaccata tant'è che stanno tornando indietro allora io non vorrei non vorrei che dopo che vince il sì loro si rendessero conto che era una vaccata anche questa come l'Italicum ma l'Italicum lo ritirano con una maggioranza semplice questo ce lo ciucciamo per 30 anni perché ci vogliono i due terzi del Parlamento per cambiare una riforma costituzionale e quindi noi ci teniamo una roba scritta coi piedi che dura per 20 o 30 anni pensiamoci io credo che il noto costituzionalista Travaglio abbia utilizzato delle espressioni tipiche della dottrina costituzionale migliore da ciucciare a Cazzaro ad altre espressioni di grande valore costituzionale Cacciari ha detto che è una cutanata la vostra riforma a proposito di tecnicismi lei vuole difendere la democrazia e non riesce almeno ad accendere l'orecchio almeno una volta ogni tanto abbia la compiacenza di ascoltare gli altri non ha la verità a quanto l'ho ascoltata benissimo allora ora si fermi e parlo io il 70 della costituzione era previsto per camera e senato che fanno le stesse cose è stato cambiato perché il senato non farà più le stesse cose non darà più la fiducia e questo darà più stabilità ai governi basta leggerlo per capirlo scusi Travaglio non sono tutti Di Maio c'è anche chi le capisce nei mail quando le apre ma lei è sicuro che non lo capisce Zagra non Di Maio guardi guardi Travaglio lei può fare quello che crede ma quello è un provvedimento scritto nel dettaglio che per chi segue il diritto parlamentare è molto serio in cui si dice quello che accade per evitare che vi siano dubbi e si faccia quel ricorso costante alla Corte Costituzionale che dopo la riforma del titolo V per esempio sui poteri delle regioni ha bloccato i lavori della Corte quello che a me stupisce è che si pongono degli argomenti formali come è stato scritto dopo 121 modifiche del Parlamento perché questa è la democrazia rispetto a un tema sostanziale oggi Camera e Senato sono due grandi assemblee di condominio tu vinci così la raccontiamo bene questo è il regolamento di condominio vediamo di parlare con un linguaggio meno costituzionalista di quello che utilizza lei con grande eloquio e con grande capacità di affrontare i temi andiamo nel merito oggi tu fai una legge e la mandi al Senato il Senato te la ricambia ma il Senato è fatto uno da un elettorato viene eletto da gente diversa di quella che legge la Camera perché l'elettorato è sotto i 25 anni sapete che al Senato si vota sopra i 25 anni e fa esattamente le stesse cose perché il costituente del 46-47 non si trovò d'accordo la DC e il PC avevano opinioni diverse e scelsero questo compromesso è più semplice è chiaro che per dover per dover elencare nel dettaglio cosa accade nell'uno o nell'altro caso devi andare nel merito questo è il 70 ma si può scriverlo in italiano però si può scriverlo in italiano non in Ostrogoto questa si chiama democrazia e la democrazia questo è Ostrogoto questo sono punti di vista lei evidentemente è esperto anche di Ostrogoto ma non si capisce il punto centrale dei costi me lo traduce perché si dimezzano i deputati perché non si dimezzano i deputati c'è Travaglio io sono sempre stato favorevole al dimezzare i deputati e sono favorevole anche sì ma non c'è una dittatura in Italia c'è un meccanismo in cui si va in Parlamento e si guarda che numeri ci sono quando vuol far passare qualcosa lei ci mette la fiducia e la fa passare diciamo la verità Travaglio la sua incompetenza costituzionale è impressionante non si mette la fiducia sulla riforma costituzionale avete fatto i canguri per tagliare le ostruzioni avete fatto forzature di un genere per far passare le cose se parla di Costituzione Renzi abbiamo pochissimi secondi Travaglio ve la siete fatta da soli dopo che Promisconi è andato via vi ha lasciati i soli per un anno è impressionante come lei non conosca il reale è impressionante Travaglio Renzi non è soltanto che noi non conoscerete perché io ho due domande ma nemmeno quelle della Costituzione non si mette la fiducia sulla riforma costituzionale sì Travaglio vengo sui costi non ho detto quelli i costi li abbiamo già elencati Presidente del Consiglio adesso ci stiamo chiudere 500 milioni di euro di risparmi allora di fronte a questo io dico se i senatori non prendono più un centesimo se il Senato modifica la propria funzione il Partito Democratico prende 6 milioni di euro l'anno di rimborsi dal Senato Grillo che dice di rinunciare prende 2 milioni e 400 mila euro e ci paga con questo le sue strutture di comunicazione noi stiamo togliendo noi stiamo togliendo il giochino ai partiti come il prossimo anno l'IRPEF però non riuscirete a diminuirla come ha detto oggi il Ministro Padoan l'ha detto due anni fa il Padoan perché Padoan ha detto nel 2015 noi faremo gli 80 euro nel 2016 faremo l'IMU nel 2017 faremo l'IRES e nel 2018 l'IRPEF per il momento è stato un percorso fantastico netto percorso fantastico Travaglio? beh a giudicare della crescita zero direi di no il problema è che la flessibilità in base agli accordi che anche l'Italia ha sottoscritto è già stata esaurita tutta l'anno scorso come continuano a ricordarci i nostri partner europei flessibilità poi vuol dire fare altri debiti e non è che vuol dire trovare i soldi sotto le mattonelle che qualcuno poi prima o poi dovrà pagare purtroppo le risorse poche che c'erano non è che stiamo imputando al governo Renzi di avere scialacquato grandi sostanze ma in questi due anni del suo governo una trentina di miliardi se ne sono andate in misure che erano state annunciate come capaci di rilanciare l'economia l'occupazione la crescita e che ci hanno portato a crescita zero ora pagare la crescita zero con 30 miliardi con misure che si sono rivelate inefficaci come gli incentivi del Giosac come gli 80 euro come l'abolizione della tassa sulla casa a tutti anche a quelli che potevano come me per esempio potevano permettersi di pagarla secondo me è stato un errore e il fatto che si continui a pensare distribuendo soldini a pioggia un po' qua un po' là il bonus ai diciottenni la cosa di qui la cosa di là in realtà si tratta semplicemente di una dispersione di risorse che non dà quella scossa che immagino Renzi si aspettasse perché quando Renzi prende 13 miliardi e li mette negli incentivi del Jobs Act evidentemente si aspetta una scossa col botto come disse lui e poi purtroppo questa scossa non arriva tant'è che abbiamo scoperto che sono nati più nuovi posti di lavoro nel 2014 quando non c'era il Jobs Act che nel 2015 quando c'era sto parlando naturalmente di posti buoni di lavoro di lavoro stabile non sto parlando dei voucher che sono 83 milioni il record assoluto di tutti i tempi è ovvio che 83 milioni di voucher significa che ci sono persone che hanno più voucher perché magari lavorano un'ora al giorno e figurano come se lavorassero tutto il giorno come i lavoratori stabili ecco questo è secondo me il problema nel quale lui si dibatte e adesso deve rientrare quindi troppa dispersione di risorse che non hanno fatto crescita ma lui deve rientrare non solo delle clausole di salvaguardia che hanno messo i suoi predecessori ma anche da quelle che ha messo lui perché nella legge finanziaria del 2015 è stato il suo governo a introdurre clausole di salvaguardia da 12,8 miliardi per il 2016 da 19 per il 2017 e da 22 per il 2018 quindi è chiaro che il problema c'è e siamo tutti qui curiosi di sapere dove verranno rintracciate queste risorse visto che l'Europa continua a dirci la flessibilità l'avete avuta già l'anno scorso magari sbagliano in Europa però non è che uno può continuare a dire cederanno perché chiunque non hanno ceduto molto sintetico temo che Marco Travaglio non sia informatissimo sui dati del Jobs Act l'Istat che è quella che fa la certificazione dei dati dice che dal febbraio 2014 ad oggi si sono avuti 585 mila posti di lavoro in più nei 30 mesi del suo governo però io l'ascolto per cui se lei è così cortese da ascoltare anche me facciamo prima almeno evitiamo di interromperci perché una delle caratteristiche più belle delle regole democratiche è di ascoltare anche gli altri certamente 585 mila posti di lavoro sono fatti per il 70% da posti di lavoro a tempo indeterminato dal momento in cui entra in vigore il Jobs Act quindi la sua riflessione sui dati maggiori nel 2014 che nel 2015 è scorretta nel 2015 è il 15 l'anno con il maggiore incremento dei posti di lavoro la sfida a duello verbale in una fact checking sul sito del Fatto Quotidiano quando vorrà vedremo i numeri dell'Istat e vedrà che il 2015 è andato meglio del 2014 secondo punto la crescita non è quella che noi volevamo vero? però mi scusi l'Inps invece per l'anno corrente dice che sono crollati i contratti a tempo indeterminato mettiamoci d'accordo sui numeri aggiungo la domanda volevo chiedere se pensate di ripristinare gli incentivi fiscali per le imprese gli incentivi fiscali per le imprese e ci sono sul lavoro e quindi le misure sul lavoro non cambiano l'Inps dice una cosa diversa ora capisco che entriamo nelle tecnicalità che magari alle persone a casa ma però lo sconto fiscale e le imprese che assumono a tempo indeterminato quello non nel 2016 ci sono stati meno contratti di lavoro siglati rispetto al 2015 cioè non c'è stata una diminuzione di posti di lavoro c'è stato un aumento dei posti di lavoro minore rispetto al 2015 quando c'è stato il boom quindi il 15 con il Jobs Act e con il 100% di incentivi è andato medio del 16 che ha il 40% di incentivi devo dire quindi non ripristinerete gli incentivi non avremmo avuto bisogno di questo era doping non era crescita lei lo chiama doping e io da rispetto per questo ma se lei avesse un figlio che deve trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato e che firma un contratto a tempo indeterminato e che sulla base di questo contratto prende un mutuo e magari si fa una famiglia forse non lo chiamerebbe doping e se viene sbattuto fuori qualche mese dopo quando finiscono gli incentivi non è sbattuto fuori Travaglio non è che se uno viene assunto poi viene sbattuto fuori l'aiuto che viene dato nei primi tre anni è quello di incoraggiare le aziende a investire in una fase di difficoltà ma quel lavoro non è triennale è a tempo indeterminato questo non l'avete ancora colto ma è la vera novità ma non è più a tempo indeterminato a tutte le crescenti l'avete cambiato avreste abolito l'articolo 18 io capisco che lei dovrebbe essere come dire contro l'Italia calcisticamente ma almeno sul profilo di lavoro non lo dovrebbe essere e allora ascolti siete voi che fate danni non io io scrivo questa è un'opinione come dire assolutamente rispettabile ma è la sua opinione vede quello che è diminuito in questi due anni sono le copie del fatto quotidiano non i posti di lavoro Travaglio perché i posti di lavoro io sono un fedele lettore le manderò i dati una volta i dati di ADS dicono il contrario ma mi dispiace perché io sono sempre per la lettura e sono contro la deforestazione e l'abbattimento degli alberi il fatto quotidiano è pagato con i soldi dei nostri lettori pensiamo a quello che fate voi con i soldi dei cittadini che è meglio il continuo intervento non mi impedirà di dirle che i posti di lavoro che sono cresciuti in questa fase sono per me insufficienti io non sono contento io voglio fare di più io non sono come quelli che nascondo la realtà dicendo va tutto bene i ristoranti sono pieni io sto dicendo che possiamo fare di più ma nessuno può negare il fatto che quando noi siamo arrivati governo Monti 2012 meno 2,3% governo Letta 2013 meno 1,9% noi abbiamo riportato la crescita tra lo 0 e l'1 per me è poco sono tre punti in più degli altri ma è poco allora qual è la vera sfida? dare incentivi a chi investe sul lavoro permettere alle aziende che vogliono finalmente creare posti di lavoro per esempio con Industria 4.0 il piano che abbiamo lanciato ieri o con il grande grande investimento che stiamo facendo nel mezzogiorno che paradossalmente sta crescendo un po' di più del nord ma ha preso talmente tante botte negli ultimi 5 anni che prima di tornare a livello pre-crisi ha ancora molta strada da fare con queste soluzioni io credo che piano piano l'Italia ce la possa fare e io faccio il tifo per l'Italia quindi pensa che nel 2017 il PIL crescerà un po' di più dello 0,8% sì io penso che nel 2017 andrà meglio del 2016 che è andato meglio del 2015 meglio del 2014 ma meglio Gruber non vuol dire bene cioè negare la realtà è un atteggiamento sbagliato sia quando dici che va tutto male come prima perché non è vero sia quando dici che abbiamo risolto tutti i nostri problemi il sano buonsenso ci porta a dire che noi abbiamo un paese bellissimo con un sacco di problemi che però possiamo affrontare la differenza è quella tra quelli che dicono soltanto di no e che non vogliono risolverli perché c'è la corruzione allora non faccio gli eventi ci sono i problemi allora non mi organizzo non do soluzioni e chi invece quotidianamente ci prova finisco così do una piccola notizio sul tema della legge di stabilità noi il prossimo anno rispetteremo le regole europee anche quelle che io non condivido che non ho votato io per intendersi le ha votate una maggioranza che andava da Berlusconi il responsabile economico era Brunetta a Bersani il responsabile economico era Fassina quindi da Brunetta a Fassina hanno quelli che adesso ci spiegano come fare hanno firmato delle regole che sono per l'Italia regole capestro noi le rispettiamo c'è soltanto una cosa che io ho detto all'Unione Europea se voi pensate di prendere in giro l'Italia su due temi che sono l'immigrazione e il terremoto avete sbagliato destinatario io rispetto le regole europee ma nel momento in cui l'Europa non fa niente per sistemare la questione migrazione e dall'altro lato abbiamo avuto un terribile danno come quello del terremoto tutto ciò che servirà per l'immigrazione e tutto ciò che servirà per mettere a posto le scuole è prioritario rispetto al patto di stabilità quindi sarà fuori dal patto di stabilità credo che su questa posizione che ho illustrato a Jean-Claude Juncker venerdì mattina ci sia il consenso anche dell'Unione Europea e in ogni caso questo è un punto che per noi è fondamentale però Juncker proprio oggi ha detto che l'Italia ha già usufruito di flessibilità per 19 miliardi ma è un fatto positivo è vero secondo me sono di più di 10 miliardi suona un po' come un avvertimento siccome avete già goduto di un'ampia flessibilità non pensate di poterlo usufruire ancora ma lei sta annunciando che invece no 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 io sto annunciando una cosa molto semplice la flessibilità non c'era nei trattati europei ok Jean-Claude Juncker ha legato il suo programma all'investimento in flessibilità lui è andato il 13 gennaio del 2015 al Parlamento Europeo lo stesso giorno in cui noi chiudevamo il semestre in cui avevamo combattuto per la flessibilità e ha detto il mio lavoro di presidente della Commissione avrà con sé la flessibilità devo dire che è stato di parola e noi l'abbiamo utilizzata perché? perché altrimenti noi avremmo dovuto tagliare ancora e se continui a tagliare tagli gli investimenti un paese muore è la ricetta dell'austerity il contrario di quello che ha fatto Obama dall'altro lato però quello che noi diciamo è che noi rispettiamo le regole oggi ma sono le regole europee che ci dicono che in presenza di eventi eccezionali quali il terremoto e l'immigrazione si può e si deve si deve no si può utilizzare un margine diverso e noi lo utilizzeremo nel pieno rispetto delle regole europee e non pensa che verrà bacchettato severamente dall'Europa? con tutto l'affetto di questo mondo se devo essere bacchettato perché faccio mettere a posto le scuole degli italiani sono contento mi faccio bacchettare io non credo che avverrà ho fatto questo esempio a Juncker noi abbiamo avuto negli ultimi dieci anni tre terremoti qualcosa di più ma tre veramente imponenti terremoti l'Aquila l'Emilia e l'ultimo Amatrice Accumuli Arquata in questi eventi è evidente che io non credo che esista il rischio zero cioè l'idea di quelli che dicono ah beh adesso risolviamo tutto sistemiamo e non c'è più rischio per me non esiste per me il rischio zero non è dato in natura ma contemporaneamente se fai un intervento di adeguamento sismico come Dio comanda con il controllo delle autorità preposte io da padre sono più tranquillo e allora siccome trovo un sacco di gente che mi sta scrivendo e credo che stia scrivendo alle redazioni dei giornali che scrive alle redazioni delle trasmissioni televisive ho proposto che su questo tema senza divisione politica tutti insieme si possa lavorare ho chiamato Renzo Piano che non è propriamente un uomo di parte senatore a vita ho preso il rettore del Politecnico di Milano il professor Azione e ho chiesto a tutte le forze politiche dalla destra radicale alla sinistra radicale sul tema della sicurezza dei nostri figli possiamo non dividerci a me sembra un principio di buonsenso poi sul referendum sul Jobs Act sul resto si litiga su questo no mi sembra un fatto di buonsenso credo che siamo tutti d'accordo su questo ha detto la parola magica referendum è giusto che Renzi dica non tutto va bene ma quello che uno si aspetterebbe è domandarsi ma perché in una fase di crescita con tutte le congiunzioni astrali europee favorevole con il cannone di Draghi col petrolio basso eccetera noi siamo riusciti a creare nel 2015 138 mila posti di lavoro mentre nel 2014 senza il Jobs Act e in una fase ancora di recessione di posti ne erano stati creati 219 mila cioè bisognerebbe anche dire abbiamo sbagliato qualcosa a meno che lui non si senta così Fonzi sapete che Fonzi non riusciva a dire ho sbagliato diceva ho sb e poi si fermava cioè qualcosa sarà sbagliato se abbiamo speso 30 miliardi per arrivare alla carità il consiglio è sempre lì Travaglio guardatevi guarda ma no è che mi deconcentro mi deconcentro e come mi concentratemi e naturalmente non appartengo ai gusti del direttore Travaglio e nemmeno lui è i miei quindi siamo come dire felicemente sullo stesso piano io non so se faccio Fonzi io però le suggerirei di non fare Ralph Malf lei caro direttore cerchiamo di essere chiari Ralph Malf è un altro personaggio scusi no no perché su questo abbiamo una cultura simile lo so bene siamo preparati sull'argomento cerchiamo di essere chiari dal 2014 si è invertita la tendenza sui posti di lavoro perché sembra che qui qualcuno abbia portato la cicogna da quando io sono al governo grazie al lavoro collettivo di una squadra che ha come primo punto di riferimento su questi temi il ministro dell'economia Piercarlo Paduan persona molto più saggia e molto più brava di me abbiamo finalmente messo in campo una strategia per cui i posti di lavoro tornano ad avere il segno più io però siccome sono sincero e non sopporto quelli che hanno sempre la verità in tasca i maestrini con la penna rossa dico che a me non basta io voglio di più ma i dati che lei ha rinvio al fact checking da fare su fattocodiano.it sono comunque dati sono comunque dati Travaglio le confesso questa piccola cosa che appartengono al nostro governo lei vada a vedere i dati fino al 2013 sono tutti negativi all'improvviso le cose cambiano quanto al fatto che la situazione economica internazionale sia positiva lo pensa solo Travaglio noi abbiamo la Brexit è più favorevole è stata più favorevole nell'ultimo anno che negli anni passati che erano tre anni di recessione consecutiva questo lo riconoscerà per noi Travaglio non per gli altri d'altra parte mi scusi si siamo solo noi a crescita zero il resto d'Europa è cresciuto del più 0,4 mentre noi ci siamo piantati nel secondo trimestre nel secondo trimestre noi abbiamo fatto zero come la Francia l'unica è la Francia che ha avuto scioperi selvaggi contro la legge che voi invece avete fatto passare cioè il giocato alla francese senza scioperi selvaggi però le dico non è così ancora una volta i suoi dati sul lavoro non sono corretti ma non è un problema non voglio parlare di questo le passiamo in una serie scusi andiamo al referendum i dati del lavoro del 2015 i dati del lavoro del 2016 segnano una cosa semplice che l'Italia se riduce le tasse che è la priorità numero uno se semplifica la giustizia civile e quello che ha a che fare con la pubblica amministrazione ce la può fare io lavoro con questo obiettivo abbiamo risolto molte crisi occupazionali però siccome sono onesto intellettualmente dico e anche non solo intellettualmente non ho voglia di dire che va tutto bene va meglio di prima ma c'è ancora molto da fare allora prima lei ha detto la parola magica referendum referendum costituzionale vi faccio vedere adesso il punto di Paolo Pagliaro perché ovviamente non è la prima volta che gli italiani vengono chiamati a una consultazione referendaria guardate politica e giornalismo sono in grande fibrillazione per l'approssimarsi del referendum presentato come il giorno del giudizio in realtà modifiche parziali o sostanziali della Costituzione non sono una novità nella storia della nostra Repubblica dal 1948 ad oggi sono state approvate dal Parlamento una quarantina di leggi e due riforme che hanno integrato o modificato profondamente il testo della Carta Costituzionale l'elenco si trova in un volumetto La Costituzione Italiana scritto da Calogero Virzi e pubblicato in questi giorni dall'editore Trevisini con i tre articoli che modificano la parte prima è stata abolita la pena di morte prevista dalle leggi militari è stato esteso il diritto di voto agli italiani all'estero e sono state promosse le pari opportunità tra uomini e donne con i 16 articoli con cui è stata modificata la parte seconda si è intervenuti prevalentemente su norme che riguardano il funzionamento della macchina dello Stato dalla definizione del numero dei deputati eletti all'estero alla durata della legislatura dall'autorizzazione a procedere da parte delle Camere nei confronti dei parlamentari inquisiti alla regolamentazione delle norme su amnistia e indulto l'ultimo intervento è stato l'inserimento in Costituzione del pareggio di bilancio enunciato ideologico che peraltro risulta difficile rispettare una riforma radicale della Costituzione fu realizzata dal centro-sinistra nel 2001 con la modifica del titolo quinto riguardante i poteri di regioni province e comuni cinque anni dopo il centro-destra propose di modificare 52 articoli introducendo norme che avrebbero dovuto sancire l'avvento del federalismo della devolution e del premierato ma in questo caso la riforma approvata dal Parlamento fu bocciata dagli elettori con il referendum del 25 giugno 2006 la differenza tra allora e oggi è che allora si votò sulla Costituzione e non sul Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Renzi lei può ammettere che è stato un errore personalizzare questo referendum costituzionale? Ammette? Sì lo ammetto ho detto subito perché partivo dal presupposto di dare un messaggio di dare un messaggio di molta serietà di molta responsabilità